È una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte abbastanza nello stesso modo. Chiaramente domani sappiamo che è una partita una delle più importanti nella storia ultracentenaria dell'Inter, quindi sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi stessi, per la nostra società, per i nostri tifosi, quindi la dobbiamo interpretare nei migliori dei modi, sappiamo che abbiamo un vantaggio, un meritato vantaggio, però sappiamo nello stesso tempo che non dovremo gestire, dovremo fare una partita da Inter coprendo il campo nei migliori dei modi, sapendo che abbiamo una squadra di fronte con tantissima qualità. Siamo a 90 più recupero da un sogno, da un sogno che avevamo insieme a questi splendidi ragazzi, che ho la fortuna di allenarli, che grazie a loro siamo arrivati anche alla finale di Coppa Italia, che probabilmente all'inizio, sai uno, magari poteva pensare, sai, quelle due settimane in cui avremmo potuto lavorare meglio, fortunatamente abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, avevamo qualche giocatore, Lautaro, Danfris, Lukaku, che era stato ai mondiali, ma fortunatamente non avevamo tanti, abbiamo lavorato, Brozovic stesso, abbiamo lavorato molto bene in quella fase, poi in questo momento con partite così importanti di una vicinanza incredibile, probabilmente è stata una fortuna non avere tanto tempo da pensare perché non dimentichiamo che pensando al campionato cinque partite fa eravamo molto lontani da un obiettivo che per noi è basilare, importantissimo, adesso sappiamo che anche lì manca un ultimo passo, ma chiaramente la nostra testa è solo ed esclusivamente a domani, che sappiamo che siamo molto vicini, abbiamo un vantaggio, però abbiamo una partita da non gestire, da fare da vera Inter, ma per quanto riguarda sentirsi già in finale, squadra matura, seria, sappiamo che abbiamo un vantaggio, un meritato vantaggio, però non si è fatto nulla, insomma, basta andare indietro, guardare, quindi chiaramente, l'ho detto a loro, lo dico anche a voi, non dovremmo assolutamente speculare e gestire niente, fare una partita da Inter con corse, aggressività, determinazione e tutti insieme possiamo affrontarla con tantissima fiducia. Braccino assolutamente non deve venire perché sono giocatori importanti, che abbiamo giocato 4-5 finali in 20 mesi, abbiamo campioni d'Europa, vicecampioni del mondo, campioni del mondo come Lautaro, quindi ho la fortuna di avere a disposizione dei giocatori importanti che sanno il valore della partita, quindi dovremo giocarla come abbiamo fatto, insomma, negli ultimi derby e negli ultimi due mesi.